Domenica 21 luglio si disputa la diciannovesima edizione della Natalonga, gara di nuoto long distance di tipo direttantistico articolata sulla distanza di 400 e 1200 metri. La tradizionale manifestazione estiva è organizzata dalla sezione di Trani della Lega Navale Italiana e vedrà cimentarsi in acqua sia amatori che iscritti di società sportive. Le iscrizioni potranno essere perfezionate anche domenica sul posto, presso la sezione del circolo. Il raduno dei partecipanti è previsto per le 8 della mattina. La zona di gara prescelta è a circa 150 metri dal molo di Sant'Antuono. Sono previsti due percorsi distinti per categoria. Inizio gare intorno alle 9. Ciascun percorso di gara sarà delimitato da boe cilindriche poste ad una distanza di 200 metri fra di loro e che dovranno essere girate in senso anti-orario. Le linee di partenza e di arrivo saranno delimitate anche da un battello di giuria. In acqua sono previste imbarcazioni di appoggio con funzione di controllo e di assistenza medica. Al pari è prevista, come sempre, una postazione medica attrezzata. Alla Natalonga potranno partecipare anche concorrenti di età inferiore ai 18 anni, previa autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne esercita la potestà legale. Le premiazioni avranno luogo sempre in mattinata al termine delle prove. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, sia maschile che femminile. Previsti gadgets per tutti i partecipanti.